Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Skyland of Albensia Albensia può scala andare Abbiamo licenziato per oggi Hildan e ci siamo portati i belts Non abbiamo fatto un buon acquisto, già comincia male, vedete? Ma che è? L'ho pure ucciso, ma zitto Che c'è sta qua dentro? Perché c'è un faro? Roba randomica che abbiamo poggiato perché non c'avevamo più spazio Da tutto e di più qua C'era qualcosa dentro Uuuuh, l'apistronzio lì C'era l'apistronzio E' uno, l'ho posato io E' il faro serve a qualcosa, Mordog Per adesso sembra di no, nella storia non viene menzionato Vabbè, io mi sono fottuto l'orologio, non si sa mai Allora, andiamo a vedere come funziona questa sfida Dovrebbe funzionare che qui Clicchiamo qua, andiamo là dentro e ci dovrebbero spawnare Blade Uffa Proviamo Ok Oh L'attacco Se taria una freccia su io, eh Che cacchio, quanti ne devono, aia? Per chi non lo sapesse, io sono un pazzo sclerotico Aia, prendo fuoco, no non è vero L'ho ucciso io E' lisciato, cornuto Alleluia Sono finiti E' tutto qua E' quindi? Che doveva fare qua? Che sono finiti? Alla qui c'è scritto exit Qui c'è scritto exit E' qui... E' qui? Tutto qua? E' una porticina che c'ha? Qui c'è scritto exit Ah, niente Ma che su, tu ti uscite? Questa cazzata, no, qua, qua, mordugriani, vieni Qui c'è un'uscita E' su tutte exit, eh Eh, ma qui c'è, c'è proprio l'uscita Ah, per andare dall'altra parte Beh, dall'altro lato del palazzo, no? Ma mi sai, quando siamo passati sui cosi Mi evocava i Blaze Vuoi dire Se ne frega Ma bobbia Che impegnativo Ma... Mi sento preso per il culo Sì, però io E' anche una piccola ricompensa te la c'ho dato Io vedo un po' il ticello, tu corta Come no? A me ma ha dato Che t'ha dato? Che t'ha dato? La verga di vampu Che t'ha dato? La verga... Oh, la verga di... Ma ha dato... Ti ha dato una verga? No Che non la devi evitare Ah, è la Blitz Road In italiano si chiama la verga... La verga di vampu Ma tu stai mannando E noi dovremmo andare dall'altra parte Eh, ma lì c'è una piramide Stiamo andando dove ci porta il cuore Andiamo a esplorare, dai Andiamo a esplorare All'avventura Con un po' il culo Ma che bella piramide Lì c'è una cesta Cesta, cesta Oh, vedo uno zombie Aia Ah, no, era bello Attaccalo indietro Ma sei scemo No, fa pure le scale, no, però Non me lo aspettavo le scale Ti ha un libro Ti ha un libro, Morduk Ti Mi dia il libro Si chiama Hyde Hyde Ah, sono quasi... È pronto soccorso Welcome to Great Village of Albensia Questo è il villaggio di Albensia Wow The Wither has destroyed 70% Watch one was and the witch Abulta treasury witch Isalurumered Tobia Nestrans To the nether Ah Ho trovato un coniglio Ci sta dicendo Io ho trovato anche cesta Che c'è un rumor Che in questo villaggio Ci dovrebbe stare un'entrata per il nether Dove praticamente potremmo trovare la redstone key Marduk, vieni qui Vieni qui Dimmi Vieni, 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 segui a me Ho preso una tnt Ho fatto esplodere la piramide Guarda che c'è dentro Ma che c'è dentro Oh, è entrata per il nether No No C'è sto C'è sto No, c'è pure un portale Entrata per il oro Melle d'oro Diamanti Smeraldi Ender pearl La madonna che ci sta qua dentro Ok Gemme Queste possono servire Oh, per fare le mele d'oro Zit Dove stai? Sotto Sotto Butta Arrivo, arrivo, arrivo No, è troppo divertente E fammi arriva Aspettami No Eh, questo se vi è diventato da solo Che cosa? Ah, sì Oddio, mi sono messo paura Pensavo fosse un attacco zombie Simile Sotto Attento, qui c'è la lava Eh, queste Ci stanno delle strutture Che sono dei Dei cosi Come si chiamano? Dei guardian Attento Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, ho un'idea Vai Smeraldo Renditi utile Non ha cliccato le No Perché, guarda Non le schiaccio Ok, ce l'ho passato Si è attiato qualcosa? No Ho sentito un rumore brutto E quindi? Ah Che è quella roba viola? Ragazzi, stanno un'euro racca di guardian Daia No, no, non rimanete davanti ai raggi Dopo un po' ammazzano Io buco la mappa Tanto non c'è nessun regolamento E non posso bugare Mi sembra Aia Ma è la vela d'oro Aia Usa le mele d'oro, no No, 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 corro, corro Non mi serve Oh, la lava C'è la lava qua Attento a quei raggi Le conviene salta sull'altra piattaforma Ecco Ciao, eh sì Marduk Ciao, eh sì Ciao, eh sì Mono, mono No Uh Salvataggio A culo proprio Ok, c'è una cesta Scarpette feather falling Scarpette feather falling Di diamante Ti servono scarpe di diamante Di ferro Dove stai, amo? Sto quasi vicino Amante io Tiè, tagli queste Sta scavando tutto Guarda, guarda Guarda che barbara Eccola Guarda, guarda Guarda che imbucata Qua Tiè Tiè, tiè le scarpe di diamante Oh, grazie Oh, pelà Problemino Qual è? Ah, lì c'è un guardia Guarda dove C'è lo spawner Abbiamo un problema logistico Respiro Non è vero Io non ce l'ho Questo problema Vecchio trucchetto Della torcia Oh, quanti ne stanno a sparare? Basta Oh, mi sta ammazzando il raggio Fermo Morto No, sono morto io Ecco Ok, posso andare avanti Stanno andando avanti Non è che sta andando indietro No, no, no Ok, allora Spiegate, Mordug Spiegate, respiro Basta che metti una torcia Contro il muro Te metti Che c'è sta qua? Tutto rubi Oh, c'è qua Che è? C'è una stanza sotterranea Lava Grotta Grotta da percorrere Blocchi de nether Blocchi de nether Stiamo andando A portare del nether Per andare a prendere la quarta chiave Allora andiamo Andiamo a prendere Scasso di chiave Ci riusciremo? Ma sì Attenta che qui c'è mezzo C'è un buco Aspetta Oh, tappo che se no Belsi c'è che la scappena C'è passa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, stavo a casca io nel buco Tacci tua, sono tua Oh, là C'era un spawner De ragni Con lo scherzo sopra Ah Arrivo, 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 arrivo Oh, oh I topi Stanno una volta a lungo sto cosa Stanno i topi Ok, ha rotto lo spawner dei topi Amore, dove sei rimasto? Perché rimani sempre così indietro? Che mi sono persa con i pesci E si muore No No, non solo Ezi Eh La prossima volta devi mettere le mani nel culo? Olla Ok Ma diventano più difficile passare, capito? Scusa Oddio, là c'è fatto pure il buco Guarda Eh Ah Riccone? Mi sentito Ok Sono morta Mi hai fatta morire Ancora là stai Eh, mi sai che servono blocchi per levare la giove? Eh Eh, aspetta Li ho io Attenti alle frecce Archie Scheletrie Però Non posso fare le slab Perché non ce l'ho Ma che slab? Ma metti i blocchi E qua con le slab ci morimo sempre Ossicino Ossa di scheletro Io non capisco dove ci sta portando tutta sta stradina Guarda, c'era un altro ingresso qua, eh No, ah, forse non mi ha mandato C'è sta qua, che c'è sta Ahia, anche se mi ha sparato Eh, sì Non era stato esso Sì Non è le prove Oh, c'è un'altra leva Oh, gente, gente, c'è gente Brutta Creeper No Chi è? Tu No, che c'è Adesso Ah, id Un'altra volta Che ci sta? No Non me ne frega una mazza Della storia Tu sai? Allora, fermi tutti Di qui si esce Di qui c'è il castello del nether Che facciamo? E qua ci stanno i creeper Ma noi dobbiamo andare al nether Di qui c'è